Si è svolta questa mattina a Genova nella Cattedrale di San Lorenzo la tradizionale celebrazione del precetto natalizio Interforze per i militari di ogni ordine e grado e i componenti delle forze di polizia in servizio nell'ambito territoriale della Liguria. La celebrazione eucaristica è stata preseduta dal Cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo metropolita di Genova, la concelebrazione di tutti i cappellani militari della Liguria. Alla solenne funzione liturgica hanno preso parte il prefetto di Genova e le più alte cariche militari e civili, oltre alle associazioni combattentistiche ed arma.